Discariche abusive ripulite nella zona balneare gelese di Manfria. Operatori della Tecra hanno lavorato da ieri per arginare il fenomeno, nonostante molti siti ricadano in proprietà private incostudite. La nostra attenzione è puntata soprattutto sugli incivili, che alcune ore dopo gli interventi di pulizia sono ritornati a depositare illecitamente rifiuti nelle stesse aree, ha denunciato duramente il sindaco di Gela, Domenico Messinese. Mi appello al senso civico di tutti e di ciascuna, affinché la bellezza di Manfria non venga deturpata di continuo. In materia di verde pubblico, gli operatori della Gelas hanno lavorato invece nel quartiere di Giardinelli. Sono state potate le palme presenti lungo i viali e negli spiazzali, mentre quelle colpite irremediabilmente dal punto ruolo rosso sono state rimosse a tutela dell'incolumità dei residenti e per evitare che diventino ricettacolo di nuove generazioni del coleottero. Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore Nuccio Di Paola, che sottolinea come in questa azione abbia contribuito una costruttiva collaborazione con il Comitato di quartiere di Giardinelli.